Buona domenica e benvenuta al consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 22 ottobre. Il Ministero della Salute ha approvato il documento di programmazione degli investimenti sanitari presentato dalla Sicilia che ottiene dunque il via libera per investimenti pari a circa un miliardo di euro per l'edilizia sanitaria e il potenziamento delle alte tecnologie. Oltre un miliardo di euro sarà investito in Sicilia nei prossimi mesi per l'edilizia sanitaria e il potenziamento delle alte tecnologie. Il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero della Salute ha infatti approvato il programma degli investimenti sanitari della regione siciliana predisposto dall'assessorato regionale della salute. Si tratta di una svolta importante per il sistema sanitario siciliano che potrà realizzare nuovi ospedali e ristrutturare presidi ospedalieri e territoriali. La parte più rilevante degli investimenti è finanziata con l'articolo 20 della legge finanziaria dell'88 che prevede un apporto dei fondi regionali pari al 5%. Si tratta di 845 milioni, 803 dallo Stato, 42 della Regione. Altri 140 milioni circa saranno recuperati attraverso l'alienazione dei beni immobili di proprietà delle aziende sanitarie e con l'apporto dei privati tramite le forme di partnership pubblico privato consentita dalla legge. A queste somme vanno aggiunti circa 200 milioni del POFEST 2007-2013 per le alte tecnologie, 90 milioni di euro per il progetto sull'adroterapia e altri 90 milioni di euro per il distretto biomedico. Stiamo lasciando un tesoretto alla faccia di chi vuole marcare la discontinuità da questo assessore e da questo assessorato. La scorsa settimana il nucleo di valutazione del Ministero della Salute ha approvato il nostro documento unico per gli investimenti in sanità, il cui ammontare è di circa un miliardo e tre. Opere che vanno nella direzione di rendere efficiente il nostro sistema proprio a livello edilizio. A Palermo la piscina comunale è stata intitolata Ottavio Garaio, stella d'oro del CONI nel 1998 che ha dedicato la sua vita allo sport dall'appentatrono moderno bronzo nel 1937 ai litorali alla scherma dal nuoto agonistico all'epitazione. Presenti il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore regionale dell'economia Gaetano Armao. Oggi si dedica alla figura di Ottavio Garaio, la piscina comunale che fa parte del comprensorio della favorita passato lo scorso anno dallo Stato alla Regione. Ecco perché Regione e Comune insieme hanno voluto effettuare questa dedicazione di una delle strutture sportive più importanti alla città dove sia sportivi a livello amatoriale che a livello competitivo passano i pomeriggi, le mattinate e in qualche modo offrendo una prospettiva a una città che può essere europea, che può come dimostrano l'inaugurazione del parco dell'uditore, il rilancio della favorita, cominciare a intravedere il futuro che è fatto di un passo dopo passo, di giorno dopo giorno, di momenti di riflessione e di azione sul futuro della città. La piscina comunale da oggi ha il nome di Ottavio Garaio, medaglia d'oro al merito sportivo del CONI, un modo per ricordare un uomo di sport in una città che ha un grande bisogno di sport. Martedì 23 ottobre si sono svolti nella chiesa di Sant'Ernesto i funerali di Carmela Petrucci, la ragazzina uccisa accoltellata in via auditore dall'ex fidanzato della sorella, tantissima la gente che ha voluto dare l'ultimo saluto alla giovane. Grande folla ai funerali di Carmela Petrucci, la ragazza uccisa la settimana scorsa a Palermo dall'ex fidanzato della sorella, Samuele Caruso. Un fragoroso applauso ha accolto l'ingresso nella chiesa di Sant'Ernesto del Feretro di Carmela. Parenti e amici si abbracciano davanti all'altare, incontenibile il dolore dei genitori. Tanti gli striscioni portati dai palermitani alla celebrazione. In uno c'è scritto «Un assassino ha spezzato le ali di un angelo, noi donne siamo carne da macello». Ad ufficiale l'omiglia l'arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo. «Preghiamo anche per Samuele perché imbocchi la via del pentimento», ha affermato il prelato. Poi la messa in guardia rivolta ai giovani presenti in chiesa. Se si confonde l'amore con il possesso, allora ogni volta che l'altro si dimostra diverso da come si vorrebbe, si rimane delusi. Cari giovani, tenete bene aperti gli occhi. Quando ci scontriamo con la realtà, ha spiegato ancora Romeo, esplode il conflitto. Quando non incontriamo il consenso ci troviamo sguarniti di serenità. L'incontro fra due persone e l'incontro fra due libertà. Non dobbiamo finire nella superficialità di universi virtuali dove posso far vedere solo ciò che mi conviene e pretendo dall'altro solo ciò che mi piace. Una medaglia al valore civile verrà conferita dal Presidente della Repubblica, Carmela Petrucci, la ragazza di 17 anni uccisa a Palermo, per il suo coraggio e la sua dignità. Lo ha annunciato il ministro all'interno, Anna Maria Cancellieri, oggi presente a Palermo. 41 arresti hanno colpito al cuore le famiglie mafiose del mandamento della noce a Palermo. Un'operazione imponente, quella messa appunto dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile. 41 arresti che smantellano il mandamento mafioso della noce, azzerando di fatto le tre famiglie che lo compongono, quelle di Noce, Altarello e Crullas Malaspina. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ingroie e dai sostituti Francesco Del Bene, Gianluca De Leo e Lia Sava. I reati contestati sono associazione mafiose, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, interposizione fittizia, possesso e uso illegale di armi da fuoco. Gli investigatori riferiscono anche di una guerra interna a Cosa Nostra per la ridefinizione dei ruoli di potere. Dopo gli arresti degli ultimi anni, e in particolare quello di Fabrizio Chiovaro, avvenuto nell'ottobre 2010, alcuni esponenti del mandamento della noce avevano deciso di fargli le scarpe e sostituirlo. Il ritorno in libertà di Chiovaro, sostenuto dai fedelissimi e affatto intenzionato a farsi da parte, avrebbe certamente scatenato, secondo la polizia, una guerra di mafia, scongiurata da questa maxi-operazione. Le immagini infatti si riferiscono all'incendio di un'auto di proprietà di uno dei scissionisti. Resta il fatto che a Palermo la mafia chiede sempre il pizzo e sono sempre tanti gli imprenditori e commercianti piegati dal continuo ricatto. Dalle indagini emerge persino che le estorsioni siano state fatte anche nell'ambito di produzioni televisive. La fiction I segreti dell'acqua, quella con Riccardo Scamarcio girata a Palermo, avrebbe subito pesanti attenzioni, addirittura con minacce per imporre maestranze e controfigure. Mercoledì 24 ottobre presentate le linee guida del piano regolatore generale della città di Palermo. Costruiremo insieme ai cittadini la città del 2050, detto il sindaco Leo Luca Orlando. Il piano regolatore di Palermo sarebbe pronto dal 2007 e ancora deve passare dal varo del Consiglio Comunale. Un percorso che tra le altre cose è previsto per legge, secondo il sindaco di Palermo darà l'idea di quello che l'amministrazione intende per città. Tra le tante novità, Orlando annuncia il ricorso a fantomatiche personalità di spicco, aprendo addirittura un dibattito internazionale per discutere del piano regolatore di Palermo. Vogliamo essere giudicati per i chilometri quadrati di isole pedonali e per i chilometri di piste ciclabili. Sono una serie di indicazioni che servono a rendere Palermo attraente per i palermitani, per coloro che risidono a Palermo ma attraente anche per coloro che vogliono investire. Per questo vogliamo mettere a reddito il patrimonio di Palermo, che non significa vendere Palazzo delle Aquile, significa invece rendere economicamente significativi i tanti beni immateriali e immateriali di questa città. È un grande progetto che inizia adesso a confermare che un'amministrazione deve occuparsi dell'emergenza, ma deve anche occuparsi del progetto. Deve occuparsi di quella che sarà la Palermo di domani, tenendo oggi comportamenti coerenti per raggiungere quell'obiettivo. Insomma, a Sentiero Orlando sarà costruita la città del 2050, ovvero la tanto annunciata città metropolitana, e la parola d'ordine sarà partecipazione. Chiude il suo intervento tra il Desserio e il Faceto, il sindaco di Palermo. Per il 2050 sarò ancora sindaco. Gesip, il sindaco Orlando, ha rimandato l'appuntamento con i lavoratori e le rappresentanze sindacali per fare il punto della situazione. Ho detto e ribadito che sono impegnata a seguire la vicenda dei lavoratori della Gesip e che continuerò a seguirla per assicurare tanto i loro diritti quanto il diritto della città tutta ad avere servizi efficienti. Il sindaco di Palermo, Luca Orlando, affida ad una nota la risposta a tutte le domande sul futuro dei lavoratori Gesip. È ormai chiaro a tutti, continua, che la situazione è ancora in queste ore in continua evoluzione e che si è instaurata un'interlocuzione fra Roma e Palermo, fra i governi nazionale e regionale che hanno gli strumenti per affrontare il problema. Alla luce di questo continuo evolversi degli eventi, credo opportuno tirare le somme venerdì informandone i cittadini, i lavoratori Gesip e le rappresentanze sindacali. Intanto, iniziata a Palazzo delle Aquile anche l'iter del bilancio 2012 e ordinanza di protezione civile alla mano, la sua approvazione potrebbe finalmente sbloccare i primi 5 milioni promessi al commissario straordinario Latella. Soldi che potrebbero consentire con una relativa tranquillità il traghettamento della Gesip da qui fino alla fine dell'anno. Giovedì 25 ottobre, al Consiglio Comunale di Palermo sono bastate meno di otto ore per approvare il bilancio di previsione per il 2012. 26 voti a favore e 6 voti contrari. In poco meno di otto ore il Consiglio Comunale di Palermo ha sbrigato l'importante pratica del bilancio di previsione 2012 e siamo al 25 ottobre con una manovra presentata sotto forma di emendamento della Giunta. Le risorse impegnate ammontano a 30 milioni di euro e questo anche grazie all'aumento dell'Imu per le seconde case alla lotta all'evasione. Otto, le proposte di modifica e le integrazioni accolte tra queste l'emendamento di Giulio Tantillo del Popolo della Libertà che ha proposto lo stanziamento di 100 mila euro per dotare l'assessorato all'urbanistica di nuovi strumenti informatici. Altri 100 mila euro per gli impianti sportivi li ha voluti il Rosario Filoramo del Partito Democratico. Poi Antonella Monastra di Ora Palermo ha ottenuto l'approvazione del suo emendamento per stanziare 40 mila euro per il microcredito alle donne che subiscono violenza. Nel bilancio c'è posto anche per i teatri 2 milioni e mezzo di euro poi ben 8 milioni e mezzo per l'aumento dei costi delle utenze elettriche e 200 mila euro per la creazione di una società consortile per il riordino delle partecipate. Manifestazione spontanea del Movimento Civile Cittadini a Palermo chiedono maggiore responsabilità ai partiti e ai loro rappresentanti. È una riunione spontanea di persone che sono assolutamente stanche dei sorprussi della politica. Una riunione di persone che indubbiamente in queste elezioni non vedono una via di sbocco per il futuro economico e politico della nostra Sicilia. Non perché i candidati alla presidenza della regione siano persone per carità discutibili, anzi tutt'altro, ma perché probabilmente le coalizioni che li sostengono sono formate dai soliti noti, persone che hanno contribuito con la loro non politica a far sì che la Sicilia sia sempre il fanalino di coda dell'Italia. Questa è una cosa assolutamente intollerabile. È intollerabile perché per i nostri giovani, è intollerabile perché per la gente che sta perdendo lavoro, è intollerabile perché comunque con loro non fare hanno levato la speranza ai siciliani. Siamo un gruppo di persone riunite qua in maniera assolutamente spontanea, convocate tramite i social network. Il Movimento è di natura assolutamente spontanea e nasce evidentemente dal malcontento. Non siamo contenti di come vanno le cose in questa regione, che è una regione che ha avuto una grande prerogativa, quella di uno statuto speciale, che ha portato ai risultati che vediamo tutti. Nessuno di noi è contento. Vogliamo dire basta a questo stato di cose. Vogliamo gente nuova, gente seria e non le solite facce. Siamo qui un pugno di persone sperando di diventare sempre di più, ma per fare una piccola lamentela diciamo. Noi siamo un po' stanchi di questa politica, di questo modo di gestire, vogliamo cose chiare. Non ci rivolgiamo, non siamo contro nessuno e contro tutti, vogliamo soltanto un mondo più pulito per noi e per i nostri figli. E questa è una maniera pacifica per farlo notare. Siamo un po' stanchi, ci avete un poco proprio scocciato, proprio tutti. Venerdì 26 ottobre non si placa la polemica sulla lettera inviata dall'assessore comunale di Palermo, Agnese Ciulla, ai consiglieri comunali contro le raccomandazioni. Adesso tra gli inquilini di Sala delle Lapidi c'è chi minaccia querele. Produrre sociale per fare comunità. E' questo il progetto del Comune di Palermo finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ha messo contro Agnese Ciulla, assessore alle attività sociali del Comune di Palermo e alcuni consiglieri comunali. La componente della Giunta, nei giorni scorsi, ha inviato un comunicato in cui invitava i consiglieri a non sollecitare raccomandazioni. Le reazioni sono state puntuali e sono stati proprio i consiglieri di maggioranza, quelli del gruppo di Italia dei Valori, che conta 30 componenti, a chiedere chiarimenti senza nascondere il disappunto. Alberto Mangano, presidente della Commissione Urbanistica, ha invitato l'assessore a rivolgersi alla Procura della Repubblica, mentre altri consiglieri hanno presentato un'interrogazione sul fatto. Il consigliere Giussi Scafidi ha invece inviato una lettera all'assessore in cui si definisce amareggiata, indignata e offesa. La lettera continua con la precisazione del consigliere che dice di non avere mai chiesto raccomandazioni per nessuno e con l'invito all'assessore di andare a riferire in aula sulla vicenda, dicendo i nomi di chi ha sollecitato le raccomandazioni. Voglio vedere i pizzini in calza Scafidi. Se non li vedrò, avrò ragione di querelare l'assessore Ciulla, anche se l'accusa non è rivolta a me personalmente. L'accusa però è rivolta ai consiglieri e io sono tra quelli. Mi scuso se qualcuno si è offeso, ha replicato Ciulla. Io comunque non potevo stare zitta di fronte alla processione di cittadini ai quali erano state fatte promesse di assunzione su progetti di formazione la cui graduatoria è stata già pubblicata. Che siano stati i consiglieri di oggi o di ieri poco cambia rispetto al principio che volevo evidenziare. Tutte le organizzazioni sindacali di Ubis, la società del gruppo Unicredit, hanno convocato per l'intera giornata di venerdì lo sciopero dei circa 5.300 lavoratori per contrastare il progetto Newton che prevede lo scorporo di alcuni rami d'azienda e la conseguente esternalizzazione del gruppo di 2.000 lavoratori in Europa, di cui 800 soltanto in Italia. Anche a Palermo manifestazione in via generale Magliocco davanti la sede di Unicredit. Il rischio nell'immediato è quello che è una consistente fascia di lavoratori dell'Unicredit che sono stati prima relegati a una società di servizi che si chiama Ubis e ora l'azienda vorrebbe esternalizzarli e quindi trasferirli a delle aziende che non fanno parte del settore bancario e non fanno parte di Unicredit. È fin troppo ovvio che questa manovra che viene mascherata come una manovra di business è in realtà una manovra che sottende una riduzione dei costi fatta aggirando praticamente quello che è il sistema con cui fino ad oggi ci si è mossi. Cogliamo da parte dei vertici segnali di chiusura in quanto i lavoratori vengono precettati usando degli strumenti diciamo al limite della legalità. Cosa chiedete quindi nell'immediato per scongiurare questi pericoli? La sospensione di questo progetto che si chiama Newton, un tavolo di trattativa negoziale in cui si possono affrontare i veri problemi di cost nell'azienda Unicredit di Ubis e noi proponiamo all'azienda di sederci al tavolo con un progetto chiaro. Si tratta di molti lavoratori che rischiano di perdere il contratto dei bancari ma rischiano di trovarsi anche in un settore in cui diventano precari per cui vengono messi a rischio posti di lavoro. In Sicilia non possiamo permettercelo, a Palermo non possiamo permettercelo, per cui siamo tutti sindacati, quindi accanto ai lavoratori siamo noi stessi di Unicredit, anche io sono un dipendente di Unicredit, siamo tutti in gioco quindi per cui la partita è difficilissima e sarà una partita molto dura. C'è un'arroganza incredibile in questo momento delle banche italiane che attraverso la propria associazione Labbi vorrebbe da un lato esternalizzare alcune attività mandando allo sbaglio i lavoratori e quindi creando un precariato anziché eliminare il precariato, creano il precariato e a questo punto il nostro, che è il sindacato di maggioranza relativa, la Fabbi si opporrà con tutte le forze perché questo non avvenga quindi faremo tutta la mobilitazione, se è necessario ci incanteremo ma impediremo che le aziende con arroganza facciano queste cose. Oggi siamo qui a protestare perché diciamo no al progetto Newton o no alla esternalizzazione, maggiore garanzie per i nostri lavoratori facciamo di tutto per evitare il licenziamento perché di questo si tratta. Ieri sabato 27 ottobre si è svolto nel fine settimana a Palermo la mostra e la zagara dedicata alle piante rare da collezione e inusuali giunta alla quinta edizione l'iniziativa si è tenuta all'orto botanico. La novità è che siamo arrivati alla quinta edizione, in genere in Sicilia le cose iniziano e finiscono subito, quindi per la nostra volontà e poi perché l'orto botanico col professor Rimondo ci consente e ci permette di continuare e ha fatto questa quinta edizione con delle grandi novità. Per primo una novità è questa dell'assessorato regionale all'agricoltura che ha pensato finalmente di difendere, di potenziare la storia, la cultura e anche la produzione di agrumi siciliani. Poi abbiamo la grande novità che è i vivai sciacca di Catania che hanno portato i giardini verticali e i tetti fioriti e le grandi piante infestanti, ma grandi piante che sono la graminacee che sono adatte anche a chi non ha il pollice verde perché loro fanno da soli. È una mostra nella mostra perché prima abbiamo creato la zagara e tutto quello che è il contorno ornamentale. Adesso stiamo entrando un po' nel succo della situazione un po' siciliana che abbiamo lasciato da parte anche perché le grandi distribuzioni hanno un po' interrotto il percorso dei frutti di agrumi siciliani ma rimangono sempre i più buoni del mondo e quindi si sta cercando di sviluppare un qualcosa aprendo un po' sul mercato non iniziando dal produttore perché i vivaiisti sono pieni di piante stiamo cercando di magari cambiare, alternare a qualcosa che magari è troppo commerciale perché la producono tutti e andare su delle specie più particolari. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. A tutti ancora una buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.